Carissimi amici ed amiche, buongiorno, bentrovati, benvenuti sul canale Ancora Oggi. Era il 10 di giugno, spariva la piccola Cata, la bambina peruviana. Questo video potrebbe ritorrarsi Il nonno dal Peru certifica la falsità di questa storia. Dal primo momento ho avuto il sentore che ci fosse qualcosa che non andava per il verso giusto perché una bambina capita, ahimè, che possa sparire in una confusione generale di una strada, di una piazza, di una spiaggia ma con le modalità con le quali è sparita questa bambina cioè nell'ambito di un ex hotel occupato da quelle stesse famiglie all'interno di esso certamente la matrice è da ricercare in loro e quello che si legge, quello che è accaduto veramente di una gravità, direi, insoppostabile. È una presa in giro, credo, da parte di questa comunità peruviana di cui il famoso Ziabel è già in carcere con altre quattro persone per atti di violenze, per tentato omicidio violenze varie fatte nei confronti di un altro soggetto e stiamo parlando sempre di delinquenza stiamo parlando di racket degli affitti e non solo anche di traffici illeciti purtroppo si permette a volte che intere zone siano assoggettate da queste figure e si crea l'alchimia di un complesso delinquenziale e in esse, mi dispiace dirle, di esse fanno parte in un certo modo come famiglia anche la mamma Caterina e il padre Michele che appartengono in tutti i casi a questa comunità peruviana e ne conoscono le dinamiche e non sono del tutto estranei queste dinamiche delinquenziali tant'è che lo stesso Michele è da poco uscito dal carcere e quindi oltre a questo dispiacere per questa bambina rapita sicuramente c'è anche la beffa perché si è saputo che da una intercettazione telefonica tra il nonno della bambina e papà Michele ci sono delle parole assurde il nonno dice non ti preoccupare che cade già qui in Peru ci penso io sta bene l'hanno rapita per esore ora cioè il tono il tono è un tono di chi diciamo non è che pone un dubbio che fa un'ipotesi astratta sembra che abbia la certezza di quanto sta dicendo quindi se fosse vero sarebbe un fatto gravissimo sicuramente un fatto gravissimo perché potrebbe dire che questa bambina è stata imbarcata su su un aereo e come come si fa certamente l'allarme era scattata quindi le segnalazioni non sono state fatte non credo che avesse con sé documenti se non se non magari tutto organizzato con documenti falsi e quindi è da pensare che ci fosse ammonta diciamo una organizzazione di un certo livello se davvero questa bambina è stata in grado di arrivare fino in Perù quindi e come si fa a dire ad un certo punto che è stata rapita per esore come si fa a dire questo rapita per esore per postarla dove per portarla in Perù a quale scopo cioè qual è lo scopo noi immaginiamo qual è lo scopo di fare tutto questo messo in scena per prendere la bambina e per ripostarla in Perù manca la razza o manca il significato di tutto ciò quindi o dobbiamo pensare a un nonno che fuori di testa completamente inattendibile ma perché avrebbe dovuto dire tutto ciò anche con un tono diciamo così di sicurezza e allora ecco che noi non possiamo fare a meno di pensare che i genitori sappiano che i genitori mentano su tanti aspetti cosa può essere successo magari un finto rapimento un finto rapimento perché per evitare delle conseguenze peggiori dobbiamo pensare a questo un finto rapimento per ottenere cosa lo lo sgombero del di questo ex hotel astro non si sa cosa pensare certo veramente è una cosa fuori 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 dalla logica vedete d'altronde questa telefonata intercettata sarebbe del mese di ancora del mese di giugno diciamo non è una cosa recente e quindi oggi esce fuori dopo che per mesi i genitori non ne hanno fatto cenno indifferentemente hanno fatto quelle pseudo manifestazioni gridando torna a casa cata torna a casa come quasi fosse un allontanamento volontario di un adulto oppure rilasciateci rilasciate la bambina fateci sapere che fine ha fatto ma siamo sicuri che essi dal primo momento hanno indirizzato bene le autorità e poi si lamentano che la gente non non pastecipa non pastecipa al lutto cioè al lutto scusate non pastecipa al dolore per meglio dire non pastecipa non è sensibile ma forse quando qualcosa non torna hanno gridato le istituzioni ci devono delle risposte invece sono le istituzioni e la gente di Firenze soprattutto che vuole risposte da voi dire io cioè a che gioco hanno giocato a che gioco avete giocato fino ad oggi con le istituzioni italiane con la gente italiana l'hanno presa per esore quale esore come è possibile dire la bambina sta in Peru non ti preoccupare l'hanno presa per esore e come si fa a prendere per esore una bambina a casa vostra nel vostro territorio di di appartenenza diciamo così non è che l'hanno presa diciamo per la strada chi poteva entrare e prendere per esore no lì non si prende per esore in quell'ambiente in quell'ambito lì non si prende per esore era tutto organizzato quindi potrei dire al nonno non c'è nessun esore in questo rapimento sicuramente è stata presa per per altri scopi sicuramente quegli scopi che ci dovete dire dopo che centinaia di persone sono state impegnate nelle indagini migliaia di telecamere di sorveglianza sono state controllate inutilmente e invece di farci sapere delle notizie più attendibili ci si metteva un castello in mano con la scritta torna a casa cata credo che gli inquirenti in base a questi nuovi elementi possono agire e pressare questa comunità a questi genitori affinché la verità esca fuori esca fuori veramente credo che questa intercettazione sia di una gravità inaudita e di una mancanza di rispetto appunto per per le istituzioni che tanto si stanno impegnando in questo caso grazie amici miei grazie sempre dell'affetto con il quale mi seguite e un abbraccio a tutti quanti voi